bene ragazzi bentornati in mio canale sono lollo 97ization quest'oggi siamo qua insieme per un'altra per un altro episodio su rotto divisione 1 stiamo in divisione 6 cioè quindi non ci sono modifiche diciamo per quanto riguarda la squadra quindi andiamo subito a cercare una partita eccolo qua l'abbiamo trovato e quindi si chiama sena 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 19 26 dobbiamo andare a comprare magliette mi dimentico sempre vediamo questo che squadra c'ha se sentite il numero di sottofondo è il ventilatore che ce l'ha presente appiccicato quindi fa caldo quindi non posso fare non posso farne a meno allora a difesa buona l'attacco anche diciamo sì dai anche se quel pato fa un po schifo al cazzo però per fortuna senacchi senacchi maurito icardi la mette dentro primo tiro primo gol 1 a 0 e la mettiamo subito così subito così subito così bello cazzo 1 a 0 1 a 0 1 a 0 no 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 guarda questo eh non mai che era scarso mortacci tua vai alvaro vai alvaro corri corri freccia corri freccia metti in mezzo perfetto no rovesciata no che non ci credo rega non ci credo cosa ci siamo cagati cosa ci siamo cagati albame albame dove vai no 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 la cazzana la mette in mezzo caglie con 2 a 0 2 a 0 2 a 0 giose maria caglie con la mette dentro lui di poco di potenza d'ignoranza riuscita riuscita alvaro morata 3 a 0 dopo neanche il fine primo tempo dopo neanche il fine nel primo tempo quanto siamo forti quindi primo tempo con il risultato di di re a 0 meritatissimo e quindi è cioè rega spettacolare veramente stiamo giocando sul belluto veramente questo tre ti rimportano i segni proprio di un'altra categoria siamo vai alvaro morata alvaro 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 morata 4 a 0 riga 4 a 0 se non qui ti c'è davvero devi quittare per forza mauricardi mauricardi hai visto dentro caglie con 5 a 0 5 a 0 in pausa sentatore di quitte ops acquittato ops acquittato 9.8 per alvaro morata migliore in campo spettacolare veramente spumeggiando veramente bella bella partita veramente un bell'inizio di divisione ben cittadino eccolo forse abbiamo trovato si nell'anni italy vediamo un po cosa ci riserva quest'oggi la squadra è un po stanca perché le forme fisiche sono non sono molto alte non sono al massimo quindi forse non so una bella serie a direi una bella serie a si veramente tosta soprattutto quelli qua in 86 potrebbe darci fastidio vai cazzo dai cazzo dai cazzo no lagga 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 troppo rega lagga troppo si è bloccato ma le prego non me la pezza per favore si è bloccato tutto rega ah no ok si è ribloccato no rega c'è comunque la connessione mia va benissimo si è interrotta la connessione quindi vediamo un po se non c'è la data giocata mi sa vediamo un po no non c'è la data giocata quindi eccolo qua abbiamo trovato juventus urin latenza ottima quindi dovrebbe andare bene anche per noi sono questa mi dispiace zio vediamo che squadretta c'è la prego non mi dica che c'è la forte come quell'altra perché no vabbè è una squadra normale scialla proprio si proprio scialla no dai porca puttana no 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 quello cazzo portiere 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 ti prego portiere no 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 cazzo cazzo dai merda merda ma mi ha vista dentro l'ho vista dentro dai ma che cazzo c'ha vedi vaffanculo vai di ripartenza vai di ripartenza certo no mi pare giusto no E che dici, fanno un'azione No Le fanno schifo, fischiamo subito Questo dito in porti, manco uno Fattori, manco un giro Manco un giro Icardi, Icardi 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 la mette dentro 2 a 1, 2 a 1, 2 a 1 Dai cazzo Primo dito in porta, prima cosa di morito Non sbaglia Prima occasione per lui non sbaglia, cazzo Ma davvero? Mi sta prendendo per culo Non ha segnato e mi stai prendendo per il culo Cioè guarda che tiro ha fatto questo Poi Bella Rabi Cioè Bella Rabi mi ha segnato Mi spiace Niente ragazzi, questo ha fatto lo stronzo Ha fatto Melina, ha fatto tutto per Non farmi prendere il pallone Quindi mi spiace ma purtroppo L'abbiamo vinta Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un like, iscrivetevi al canale Mi raccomando lasciate in descrizione Sempre le fanpage di facebook e canale Twitch E mi raccomando iscrivetevi e Bella Ciao a tutti, ciao a tutti Grazie.